Torna la magia in piazza del popolo, un'occasione unica per ballare, cantare ed emozionarsi assieme ai personaggi più amati della tv e al mitico Sparvi, la mascotte dispettose magica della mezzanotte bianca dei bambini, il grande evento estivo dedicato a piccini e famiglie. Quest'anno si svolgerà nella serata del 4 luglio, dalle 19 alla mezzanotte con ingresso gratuito. La manifestazione promossa dal comune di Pesaro che per dieci anni ha scatenato la fantasia di migliaia di visitatori mira a celebrare la vita e la creatività con gli spettacoli live di Coccole Sonore alle 19 e quelli di Rainbow dalle 21 e 30. Ricco il programma tra i grandi personaggi da non perdere ci sono Greta e Whisky e il Ragnetto che balleranno e canteranno sulle note delle canzoncine di Whisky e i suoi amici e per la magica notte ci saranno anche le fate divenute delle vere e proprie star mondiali della tv grazie a Rainbow. La seconda parte della serata infatti sarà aperta dallo spettacolo Live Glitter con le protagoniste di Wings Club in carne ed ossa. A seguire 44 gatti, la più recente produzione di Rainbow con il Miao Dance Show. In anteprima a Pesaro andrà poi in scena un episodio di Summer e Todd, l'allegra fattoria, la nuova serie animata firmata da Rainbow che mira ad avvicinare i più piccoli alla natura e al tema della sostenibilità ambientale. Chiusura con l'attesissima ospite speciale Anita Bartolomei, la bravissima interprete della canzone vincitrice della 63esima edizione dello Zecchino d'Oro. Fiduciosi di poter tornare alla formula originale ovviamente con anche delle novità dal 2022 però vorremmo mantenere almeno il segno di questa bella tradizione, una festa che negli anni si era già allargata anche a temi nazionali e soggetti nazionali come qui nel programma di oggi quindi abbiamo pensato una versione più teatrale in cui il pubblico potrà essere seduto in piazza del popolo nel rispetto delle norme, sarà un'edizione di un giorno solo, di una domenica dalle 19 fino a quasi alla mezzanotte bianca che verrà poi trasmessa anche in streaming nei canali della mezzanotte bianca dei bambini quindi servirà anche un po' ad ampliare il lavoro social ma siamo sicuri che sarà un elemento di contatto con il pubblico che ci ha sempre seguito anche un'occasione per trovarne di nuovo per una prossima edizione. Quest'anno invece abbiamo una piccola sorpresa per la città perché a settembre inizierà una nuova serie su Cartunito con uno spin off dedicato al ballo e al canto e domenica faremo proprio la prima uscita di questa cosa in prima, tra virgolette, nazionale. È un piccolo regalo che vogliamo fare alla città che ci ha comunque dato i Natali. Questo sarà un programma che andrà in onda per due anni su Cartunito sono 56 episodi nel primo anno e poi altri.